Il campionato di calcio di eccellenza torna in campo. La FIGC Campania ha assunto le decisioni per la ripresa. Il torneo inizierà l'11 aprile e terminerà il 27 giugno. Su 42 club iscritti, solo 29 hanno deciso di partecipare alla stagione in corso. Di questi sei sono della provincia di Salerno. Saranno in campo anche le due cilentane, Agropoli e Virtus Cilento. Il nuovo format prevede la composizione di cinque gironi, quattro da sei squadre ed uno da cinque. I primi tre classificati di ciascun girone e la migliore quarta prenderanno parte ai play-off. Ora si attende di conoscere la composizione di ciascun girone. La Gelbison è in piena corsa con le due squadre di Messina per il salto in Serie C. Attualmente è al terzo posto, ma deve ancora recuperare una gara rinviata lo scorso 2 febbraio in occasione della quindicesima giornata di andata sul campo del Roccella per la presenza di un numero elevato di calciatori positivi nel club calabrese. Il Dipartimento Interregionale ha disposto la data del recupero, fissandola per mercoledì 24 marzo con inizio alle 14.30. Alla luce della classifica si tratta di una testa-coda con i vallesi a ridosso della vetta e i calabresi che chiudono la graduatoria con 13 punti, ma con 4 gare ancora da giocare. Sempre nel girone I sono in programma, lo stesso giorno altri due recuperi, Dattilo Cittanovese e Paterno Rotonda. Intanto domenica la Gelbison sarà impegnata per la 22esima giornata sul campo della città Sant'Agata.